Meghan Markle e il principe Harry, sono stati invitati a una festa in giardino a Buckingham Palace, per celebrare il settantesimo compleanno dell'allora principe Carlo, quando lavoravano ancora come reali nel 2018. Il filmato del principe Harry e Meghan Markle, che lasciano rapidamente una festa in giardino organizzata a Buckingham Palace per il settantesimo compleanno dell'allora principe Carlo, ha fatto ipotizzare che fosse stato chiesto loro di andarsene. L'evento ha avuto luogo nel 2018, non molto tempo dopo che Harry e Meghan, si erano sposati in una sontuosa cerimonia reale a Windsor. La commentatrice reale Lady Colin Campbell, ha affermato che c'era stata tensione nell'aria durante la celebrazione, poiché Meghan, era apparentemente annoiata, e altri sostenevano che fossero stati scortati fuori dalla festa. Tuttavia un lettore labiale professionista ha esaminato il filmato, e ha rivelato ciò che il monarca ha effettivamente detto al figlio più giovane quel giorno, sottolineando che sicuramente non c'era alcuna angoscia. Il lettore labiale ha detto a Mail Online che un membro dello staff ha spiegato a Ferri che era stato chiamato. Charles allora disse ad Ferri, adesso andiamo, dobbiamo partire, al che Ferri rispose, vai avanti. L'attuale re disse, andiamo adesso, ci vediamo più tardi, e Ferri disse in risposta, sì, ci vediamo dopo. All'inizio della clip, si possono vedere i Sussex chiacchierare allegramente con gli ospiti, con Meghan che ha sentito ammirare la collana di una donna. Durante le loro interazioni, Ferri viene avvicinato da un membro dello staff reale, che sembra dire al principe che suo padre vuole parlargli. Il duca di Sussex poi si fa da parte e Charles gli dice tranquillamente qualcosa, mettendo una mano sul braccio di suo figlio mentre lo fa. Ferri annuisce, e fa un gesto davanti a sé prima di dare una pacca sulla spalla a Charles e tornare da Meghan. Prima che Camilla si avvicini e saluti sia Ferri che Meghan con un bacio prima di tornare alla festa.